Francesco Montanari, dobbiamo dire che è di casa a Castiglion Fiorentino. Quello che proponi questa sera è una storia di periferia, ma una storia di tutti i giorni? Sì, questa è una storia molto... a me piace tanto scritta da Davide Sacco, diretta anche da Davide Sacco, io e questi due valenti maestri musici che mi accompagneranno in questa avventura. E' una storia che parla fondamentalmente, c'è questo giornalista che viene mandato in missione a fare questa intervista a questo Cristo di periferia che sembra che nella roulotte di un circo dove lui lavora faccia i miracoli. Quindi chiaramente va questo giornalista molto scettico, dice ma ti pare che io devo perdere una mattina, andare lì? E succede, chiaramente si trova coinvolto in un mondo meraviglioso del circo e poi succedono obiettivamente delle cose strane che se ci sappiamo fare, come speriamo, come noi però ci impegniamo, possiamo restituire a chi ci guarda e a chi ci ascolta. Un racconto di fede, quella stessa fede che spinge il funambolo a continuare a camminare sulla corda sospeso nel vuoto. La fede che supera la paura, questo è il messaggio che ci è sembrato lanciare lo spettacolo molto apprezzato dal pubblico dell'Ospina.